Una delle più affascinanti produzioni di Madame Butterfly, quella del premio Oscar Anthony Minghella, è stata proiettata ieri pomeriggio a Cremona, al Teatro Filo, in occasione dell'iniziativa Puccini 100, promossa dal Conservatorio di Cremona per celebrare i cento anni della morte del noto compositore Giacomo Puccini. Ha presenziato alla proiezione la regista dell'opera, Carolyn Choanon, che è moglie di Anthony Minghella. Noi siamo emozionati e orgogliosi di avere Carolyn qui, famosa coreografa e regista e nonché moglie di Anthony Minghella. La produzione di Madame Butterfly che presentiamo risale dal 2005, nacque per il Covent Garden di Londra e poi dal 2006 ogni anno è stata ripresentata al Met di New York. Ho cantato più volte questa produzione, in quelle occasioni ho lavorato con Carolyn, che è una persona di estrema profondità e apertura e maestria. E quindi quando ho pensato al progetto Puccini per onorare i cento anni della sua morte, ho pensato a lei. Sono stata invitata qui a Cremona dal mio carissimo amico Roberto Di Biasio e sua moglie Michelle per far parte del centesimo anniversario della morte di Puccini in questo festival organizzato da lui. Innanzitutto non è che l'abbiamo scelta noi, ci è stata offerta come occasione. A quei tempi Anthony pensava che fosse un'ottima idea perché io sono appunto asiatica e lui è italiano, combinare questi due aspetti insieme in un'opera così ovviamente meravigliosa. La coreografia è una base fondamentale perché prende tutta la scena e come già dal primo atto la presenza dei ballerini riesce ad arricchire quella semplicità e visibilità che noi volevamo dare appunto a tutta l'opera, anche e soprattutto attraverso il secondo e il terzo atto.